Sono contento che devi capire le potenzialità. Sì, dal buon, Vara. Prima l'embank che posso fare anche da casa. Bravissima. E quant'è che si risparmia, o no? Esatto. E adesso quest'altra scoperta. Però non ti devi far teciappare dall'entusiasmo. Se puoi farle con calma le robe. Ho capito, ho capito. Ma mi pare che sia una roba geniale questa, no? Bravissima. Nella possibilità di depositare in banca con tanti a qualsiasi ora, senza dover per forza recarsi allo sportello negli orari canonici. Il versatore, no? Sì, precisamente. Che le soppostazioni comode e che situazione dove l'è veramente l'ideale, Vara. Infatti immagino, imprenditori, attività commerciali, se va lì senza dover portare a casa i contanti, se deposita. Ma nel tuo caso, però... Cassa Rurale Alta Valsugana. Qui Self. In banca quando vuoi, in totale riservatezza e libertà. Veloce, pratico, sicuro. Grazie.